E' appena arrivato il pacco, vediamo cosa ci hanno mandato e chi ce l'ha mandato. Intanto andiamo a scoprire chi ce l'ha mandato. La Varta. La Varta. Ciao ragazzi, grazie per aver collaborato con noi. Ci auguriamo che con questi prodotti Varta abbiate la compagnia perfetta per vivere senza limite le vostre avventure. Grazie. Allora, adesso non ci resta che scoprire cosa ci hanno mandato. Ho un po' di pile che fanno sempre comodissimo. Queste. Ora lo dobbiamo fare. Questa. Oh, bellissima questa. Stand light. Facciamo vedere, poi quando le apriamo, le mettiamo in funzione e ve le facciamo vedere stasera quanta luce fanno. Questo, 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 qui. Maga torcia. Molto bella. Anche questa è com'è. Ah, è ricaricabile anche questo. Sì. Tutti i prodotti ricaricabili questi. Perfetto. E poi c'è l'ultimo. E la... Bella, eh? Ma bella. Stasera mettiamo tutto in funzione appena... Sì, ora andiamo, andiamo, mettiamo tutto in carica e poi dopo le testiamo un po' al buio. Eh sì. Grazie. Allora, stiamo andando al buio per testare questi prodotti della Varda che ci hanno mandato e farvi vedere un po' come, come illuminano, come funzionano. Praticamente la prima parte di questo video, avete visto il pacchetto quando c'è arrivato e sono tutti questi prodotti in qua che ora vi mostreremo. Però ci voleva il buio per vedere la funzione di tutti questi oggetti. Quindi vi portiamo al buio. Allora, abbiamo questa qua che vedete, è la lantarna Varta Indestructible I-33. Questa qui è quella alimentata a batterie e vi garantiscono una durata di 360 ore continue. Poi è indistruttibile, dice che se si butta giù resiste, ma insomma, da noi anche no questa prova. La facciamo vedere com'è accesa. Adesso vi facciamo anche vedere quanto illumina questa... Sì, perché c'ha tre modi di illuminazione, tre potenze, diciamo. Ok. Parto con la prima perché è cieca. La faccio spengere tutto. È buio. Spengi tutto. Ok, ora siamo senza flash, quindi solo la luce della lampada. Praticamente, ecco, di qua possiamo vedere con la lampada e senza lampada. Questa ha tre modalità. Due. Due. E la terza più soft. Diciamo questa è bellina perché magari può essere utilizzata, chi so, in giardino, in campeggio, nella tenda. Quindi, per quanto riguarda noi, è perfetta perché nei nostri viaggi questa la mettiamo fuori e ci fa, diciamo, dell'illuminazione anche per la sera. Il corso della candela, sai? Per creare un po' di... È romantico anche questa. Perché l'ultima volta con la candela ho dato fuoco anche al tappeto, quindi questa per noi è perfetta. Allora. Questa qua, invece... È la seta torcia. Che si chiama Night Cutter F30R. Si carica con l'USB e ha una durata... Non è specificata la durata di questa qua perché dipende anche da quanto andiamo a aumentare o a ridurre il campo di illuminazione. Infatti ha una regolazione, diciamo, infinita che parte dal largo fino ad arrivare a molto stretto. C'è anche il gancetto. C'è anche il gancetto. E adesso, niente, vi facciamo vedere sempre la solita prova qua sotto. Via il flash. Ok, questo è quello che si vede senza la torcia. Non mi va. Ah, è qui. Ecco qui. Ecco. Basta tirare. Poi bisogna prendere l'impugnatura qua in cima a tirarla. Ah, mette a fuoco. Praticamente lui andrà a indicare. Così. Ah, praticamente allargis. Il campo di illuminazione. Noi qui saremo a una quindicina di metri da questa cascata. C'è anche qua. Tutto buio, buio. Io ve l'allumino. Tac. Tac. Allora, questa torcia qua, cosa ha di bello? Che praticamente ha tutto il corpo in alluminio. È resistente all'acqua, agli schizzi, più che altro. Poi... Che praticamente si chiama Workflux Stadium Light. Un faretto. È un faretto. Però questo qua è il nome... Il nome che gli ha dato la Varta. Anche questa si ricarica con l'USB. Sì, ve lo faccio vedere. Qua dietro. Ok. Chiusa anche questa per gli schizzi. Perché sono tutti prodotti che sono... Diciamo che se anche dovesse piovere, bene o male, siamo un po' abbastanza sicuri che non si rovinino. Allora, facciamo la prova. Facciamo la prova. Via il flash. Aggiorno. E questa praticamente illumina... Tipo stadio, vedi? Sì, questa qua ha un'illuminazione potente. Anche questa dovrebbe avere, schiacciando sempre il pulsante qua dietro, le varie modalità che generalmente sono tra... Questa più piccola, più bassa. E questa ancora più bassa. Spetta. Aggiorno. E la differenza si vede notevolmente. Ragazzi, noi non solo queste ce le portiamo dietro durante i nostri viaggi, ma noi abbiamo deciso di utilizzarle anche a casa, per risparmiare sul caro bolletto. Perché queste qua si ricaricano sia a 12 volte che con la 220, perché avendo il cavetto è molto semplice. Consumano pochissimo, perché se si va a vedere sul sito le durate che dichiarano sono veramente alte. E comunque, vabbè, sono articoli che hanno anche dei prezzi molto molto accessibili. Giustissimi. Basta andare sul sito della Varte e potete trovare tutti questi e moltissimi altri accessori. Bene, ora vi facciamo vedere come noi la usiamo anche a casa. Adesso andiamo a casa e vi facciamo vedere l'illuminazione del giardino per seguire. Del giardinetto, mentre annaffiamo utilizziamo Varta. E seguiamo Teddy che non finisca dentro il fiume, perché col buio lui ovviamente cerca sempre di sconfinare. A dopo. Adesso aspettiamo che esca anche Teddy, poi vi facciamo vedere l'illuminazione. Ecco anche Teddy. Eccolo lì, col suo pupazzo. Allora, possiamo vedere, attacchiamo questa. Poi attacchiamo il faretto. Eccolo lì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Utili. Utili. Spaccano. 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 Sì, grazie. Grazie e soprattutto grazie anche a voi per aver visto questo video. Se volete vedere e comprare questi prodotti potete andare direttamente sul sito della Marta per poterli acquistare. Ci vediamo alla prossima. Ciao. 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 Ciao.